Acquedotto pugliese è oggi una realtà che racchiude potenzialità di crescita economica e di benessere. Concreta rappresentazione di quel senso dell'acqua che al pari dei grandi eventi capaci di cambiare la storia è stato ed è protagonista di civiltà e di progresso. Tuttavia l'acqua non cade sempre dal cielo. Una risorsa tanto necessaria quanto fondamentale per la vita deve entrare con tutto il valore e il significato che possiede nelle case di ognuno e nella sensibilità di tutti. All'impegno sostanziale di Acquedotto pugliese deve affiancarsi quello dei cittadini. Evitare gli usi impropri e contribuire ad un uso consapevole della risorsa, tutelare l'ambiente, riconoscere all'acqua ciò che l'acqua può fare per noi è una responsabilità che costa poco ma che può restituire tanto a una terra bellissima e generosa. I grandi obiettivi si raggiungono grazie al piccolo contributo che ciascuno può dare, il senso dell'acqua e la nostra prosperità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.